sta frustando, ubbidisci, ubbidisci, se no ti faccio la stessa vita, vedi, bravo, a te l'ho messo curtirle, Zerfanetto, taglio, vado, volevo fare io, non lo sai, sei pronto? Si, vai, al mio vigliano, al mio vigliano, al mio vigliano, uno, due, vigliano, spera, a me non gli spagetti, ma che ti fai fatto tu, la carbonara la faccio io, i pancheri vanno benissimo, ma che ciasci, bisogna dare la carbonara, che capisci, sbatta l'uovo, forza, dammi qua, il movimento deve essere fluido, si deve amalgamare tutto, l'uovo, col pecorino, il parmigiano, una crema, lo capisci? Io ci metto anche il bianco, e i sbagli, in Italia si mette solo i russi, e anche un po' di panna, no, no, ha detto pane, no, no, panna, oh, che lo ripeto pure, vabbè, ma stava scherzando, ma tu vedi che io mi blocco, mi sono fatta bianca bianca, la parola panna mi fa un new freedom world, capito? Tu metti la panna in Italia Carbonara, tu sei una delinquente, tu e tutti i francesi che hanno mandato la panna, ma perché sei la new belle cousine, ma cos'è la new belle cousine, cos'è, è un'invenzione, no, è solo una copia della cucina italiana, noi inventiamo e voi copiate, noi inventiamo il Giro d'Italia, e voi facendo il Tour de France, noi inventiamo il Festival di Venezia, e voi facendo il Festival di Cannes, a Corsica, a Corsica, a nostra, ve la siete comprata per due lire, di francese, a Gioconda, guarda, a Gioconda, e chi è? È italiano, non si chiama Gioconda, si chiama Gioconda, ma la devo rubare, prima di morire, ma l'ha già rubata, ma la faccio la faccia appesa, la butto, ma me la rubo, che c'è la pasta di gira? Beh, io mi vado a dare una rinfrastatina, bravo, il bagno è in fondo a destra, ma va Francesco, c'è pure il bidet, l'unica cosa che avevano copiato, o bidet, non l'hanno copiata.